L'estate ci porta a muoverci di più, trasporti e passeggiate e questo spesso crea un aumento dei casi di inciampi e di fratture. Anche qui frutta e verdura possono essere degli ottimi alleati perché gli alimenti ricchi di calcio, vitamina D e vitamina A sono essenziali per la riparazione delle nostre ossa. Guardando il mondo vegetale il calcio è presente in grande quantità soprattutto nei legumi e nella frutta secca oleosa. La vitamina A la troviamo nell'ortofrutta di stagione di colore dal giallo al rosso come pesche, nettarine, albicocche, fragole, pomodori e peperoni. Per la vitamina D varia anzitutto un ottimo segreto, stare all'aria aperta con il sole ci aiuta ad autoprodurla, quindi buone vacanze riparatrici a tutti! Grazie a tutti!